Buonasera e benvenuti al diario di Papa Francesco, benvenuto padre José Maria Rodriguez Olaizola, gesuita e sociologo. Tu hai scritto un libro che si chiama Nella Terra di Tutti, tra poco capiremo che cosa significa Nella Terra di Tutti. Partiamo dal sottotitolo. Perché restare in una Chiesa con cui non riusciamo a trovarci d'accordo su molte questioni urgenti? Quali sono le questioni urgenti? Sono quelle della complessità della vita che dialogano e a volte mettono in crisi o in difficoltà la nostra fede. Papa Francesco ci dice che ci sono due atteggiamenti rispetto a ciò che accade che sono sbagliati. Quello della rigidità da un lato e quello della mondanità dall'altro. Sono un po' le due facce della stessa medaglia, ma partiamo dalle parole del Papa. Un'altra cosa che impedisce di andare avanti nella conoscenza di Gesù, nella pertenenza di Gesù, è la rigidità, la rigidità di cuore. Anche la rigidità nell'interpretazione della legge. Gesù rimprovera i farisei, i dottori della legge per questa rigidità, che non è fedeltà. La fedeltà è sempre un dono a Dio. La rigidità è una sicurezza per me stesso. Rigidità. Questo ti allontana della saggezza di Gesù, della bellezza di Gesù, ti toglie la libertà. E tanti pastori fanno crescere questa rigidità nelle anime dei fedeli. E questa la rigidità non ci fa entrare per la porta di Gesù. Poi un'altra cosa che ci impedisce andare avanti, entrare per conoscere Gesù, per confessare Gesù, è lo spirito mondano. Quando l'osservanza della fede, la pratica della fede finisce in mondanità. E tutto è mondano. Pensiamo alla celebrazione di alcuni sacramenti in alcune parrocchie. Quanta mondanità c'è lì. E non si capisce bene la grazia e la presenza di Gesù. Anche tu da sociologo, fotografando l'umanità di questo tempo, usi alcune di queste categorie del Papa. Sicuramente la rigidità, ma anche quello della mondanità, però lo chiami la fede liquida. Spiegaci bene, e poi ne aggiungi una terza. Raccontacele queste categorie. Che non fanno andare avanti, non fanno crescere la Chiesa, non fanno crescere nella conoscenza di Gesù, dice il Papa. Sì, sì, sì. Per me la rigidità è clara. È lo stesso senso che ascoltiamo al Papa Francesco. L'impossibilità di accettare la differenza, la impossibilità di accettare la diversità, la impossibilità di accettare che io non ho tutta la verità. Probabilmente devo ascoltare a quelli che pensano diverso da me. La rigidità è questa mancanza di accettare la flexibilità che fa impossibile, primo, il dialogo. L'oposto, lo diverso della rigidità non è il relativismo, è essere liquido. La liquidezza è tutto lo contrario. è la possibilità di dire non è niente solido, non c'è niente solido, e per tanto tutto dipende della disposizione personale. Per questo, la differenza con quello che parla il Papa Francesco della mia aproximazione è che tu puoi essere mundano e tremendamente rigido. Tu puoi essere mundano e tremendamente rigido se, per esempio, non sei capabile di accettare la fede degli altri. Ci sono persone che sono totalmente intoleranti con la fede degli altri, mondani, ma rigidi. Per questo, per me, questa è la differenza, no? Sì, sì, questa è la differenza. Però tu fai anche, poi c'è anche chi invece, proprio se non ne vuole, proprio sapere della fede, della Chiesa in particolare, è un altro elemento, no? Nel tuo disegno di partenza. Sì, sì, per me ci sono, quando parliamo della fede, il rigido è quello che soltanto accetta la sua posizione rispetto a tante questioni ecclesiali. Il liquido è quello che pensa che tutto è legittimo sempre che una persona lo accetta. È un'altra posizione che è la di quelli che dicono, io non so la fede, ma io so che la Chiesa non voglio sapere niente, no? Scusami, ma una Chiesa che ha una storia, una tradizione, non deve cercare e custodire la verità? Sì, ma deve custodire la verità, ma non deve pensare che la verità è in un museo, è ancora chiusa, perché la verità è Gesù Cristo e lo Spirito ci impulsa a reformulare una e altra volta la stessa verità. E che cos'è questa terra di tutti di cui parli? Sì, se facciamo un triangolo con quelle tre posizioni, rigidi, liquidi e distanti, facciamo un triangolo, io penso che quasi tutti noi siamo, non negli estremi, ma dentro, e la mia posizione è che dentro siamo nella Chiesa. La Chiesa non è soltanto quello che qualcuno, qualcuno pensano che soltanto sei Chiesa, si sei in questo posto, in questo, in questo, no, no, tutto questo spazio dove tu puoi essere un po' più rigido, un po' più liquido, un po' più distanti, ma la possibilità, infatti in tutte le nostre comunità, parrocchie, così abbiamo gente e persone che, bueno, qualcuni sono più chiusi al dialogo, qualcuni sono più facili per trovare una certa flessibilità di diverse situazioni, qualcuni sono distanti dello ecclesiale istituzionale, ma tutti si sentono parte della Chiesa e credo che lo sono. Quindi tu stai dicendo in fondo che poi la Chiesa è, appunto, di tutti, è più grande di quello che ci appare? Sì, è più grande di quello che ci legge, no? Io non so se qui all'Italia è la stessa cosa, ma in Spagna tante volte succede che quando si parla della Chiesa immediatamente c'è una grande riduzione alla gerarchia e al magisterio. E questo è parte della Chiesa, ma non è tutta la Chiesa. Però dobbiamo capire bene allora che ci facciamo in questo spazio di tutti, perché sia di tutti, Papa Francesco dice, le persone sono persone con un nome, non sono aggettivi con un'etichetta. Ascoltiamo. State attenti a questo, Gesù non si ferma negli aggettivi, Gesù sempre cerca il suo sostantivo. Questo è un peccatore, questo è un tale per quale, sono degli aggettivi. Gesù va alla persona, al cuore. Questa è una persona, questo è un uomo, questa è una donna. Gesù va alla sostanza, al sostantivo, mai all'aggettivo. Lascia passare gli aggettivi. Questo sguardo di Gesù, che bellissimo, che vede l'altro, chiunque sia, come destinato di amore, è l'inizio della passione evangelizzatrice. Tutto parte da questo sguardo che impariamo da Gesù. E i cristiani sono chiamati a fare come Cristo, guardando come Lui, specialmente i cosiddetti lontani. Senti, ma se togliamo gli aggettivi, come dice Papa Francesco, e diciamo, come dici tu, che la Chiesa è questo spazio enorme di tutti, che sta dentro questi estremismi che invece sono in qualche modo fuori, non viene fuori una specie di marmellata che non si capisce che cos'è senza identità. È una realtà diversa e questo è distinto. Io credo che dentro della Chiesa si hanno tante situazioni diverse, si hanno persone, non si hanno etichette. Credo che questa sia la interpretazione di quello che il Papa Francesco espressa così bene. Le diverse persone hanno diverse esperienze, hanno fatto diversi camini e quando tu ascolti la storia di qualcuna persona, la sua vivenza della fede, la sua vivenza della pertenenza, la sua vivenza della comunità è diversa da quella del vicino dell'altro. Per me l'interessante della prospettiva della terra di tutti è che apporta una dimensione della vita comune che oggi profondamente abbiamo bisogno di questo, è la comunità plurale. La comunità dove... Che differenza c'è tra una comunità plurale dove le differenze sono una ricchezza e una chiesa liquida dove, sì, stiamo insieme, però ciascuno pensa e crede quello che vuole? Intento rispondere da un... Che differenza è tra una comunità solida dove l'essenziale rimane, questo è indiscutibile, è una comunità rigida dove tutto diventa essenziale. E la differenza è la differenza tra una chiesa e una secta. Nella secta tutto... La secta ha le regole per tutto, oppure nelle sete si sa che cosa devi mangiare... dobbiamo essere omogenei, l'homogeneità è importante perché tutti dobbiamo pensare la stessa cosa, fare la stessa... comportare dello stesso modo, celebrare della stessa forma, avere stessi gusti per la musica, per tutto. Se abbiamo una chiesa assolutamente plural dove abbiamo diversi cammini spirituali, diversi carismi, la verità, diverse situazioni, perché questo è vero, abbiamo persone che per la sua educazione, per la sua formazione, per la sua storia sono più tradizionali, è perfetto. Abbiamo persone che per la sua formazione, la sua educazione sono... Ma se abbiamo gusti così diversi, perché stiamo insieme, su che cosa? Gesù Cristo. Siamo la chiesa di Gesù Cristo. Questo è quello che ci une. Ci fa veramente... Cercatore della stessa verità. Cerchiamo insieme... Gesù Cristo, La scrittura, la rivelazione, la tradizione che è venuta... Ma che è viva. Una cosa che tu sottolinei nel libro, che invece di ritrovarci uniti in Gesù Cristo, litighiamo su questioni meno importanti, su alcuni aggettivi, e teniamo fuori qualcuno. Dimmi alcuni di questi aggettivi o situazioni su cui litighiamo o che non sono centrali? Io credo che, se guardiamo gli ultimi cinque o sei anni, sono tutte quelle questioni che hanno stato importanti nei diversi sinodi. La situazione delle famiglie, che stiano in situazioni chiamate irregulari, la situazione delle donne nella chiesa, la situazione dei giovani, la situazione delle persone di orientazione omosessuale. Abbiamo tante situazioni dove le persone si sentono in situazione complicata. E il mio problema è che tutte queste situazioni sono compatibili con la fede in Gesù Cristo. Ma come si va avanti? Se tu hai due elementi, una diversità di sensibilità, in realtà sono molte di più, ma diciamo due diversità di sensibilità e una tradizione. Il Papa ha parlato in un'occasione, ricordo, di un vestito nuovo sullo stesso corpo, quello di Gesù Cristo. Ma come si cammina? Siamo in una stagione di sinodo in cui tutte queste questioni sono dentro quello che stiamo facendo. Io ho una delle parole che per me è più importante, è quella di rispettare le tensioni. Le tensioni sono parte della vita della chiesa e per questo se andiamo soltanto in un estremo non arriviamo a nessun luogo. Quali sono gli estremi? Per esempio la tradizione e la novità. Se è soltanto novità siamo persi perché tutto cambia così rapido e non abbiamo una radice sufficiente. Ma se solo abbiamo la tradizione dove parliamo, dove facciamo il dialogo con la cultura, con lo spirito che ci invita a capire di una forma diversa le situazioni, d'accordo con l'umanità, con la scienza, con la forma che abbiamo di capire le diverse situazioni e anche con il cambiamento della nostra società. Ma secondo te, questo nella chiesa come insomma nelle polarizzazioni anche fuori dalla chiesa, riusciamo a dialogare senza scontrare i nostri estremismi? Io credo che siamo adesso in un tempo difficile per il dialogo, per il dialogo difficile, non soltanto nella chiesa, io credo per la rivoluzione della comunicazione negli ultimi 15 anni. Quindi tu dici i social estremizzano proprio le posizioni più lontane, ci portano più allo scontro che al dialogo. Ultimi 30 secondi, devi rispondere alla domanda che tu stesso ti poni. Perché vale la pena di restare nella chiesa anche se non siamo d'accordo tra di noi? Perché abbiamo dentro della chiesa un tesoro più grande che tutte quelle difficoltà, tutte quelle questioni difficili. Perché se soltanto guardiamo le questioni difficili partiamo, ma la verità è che abbiamo la rivelazione di Gesù Cristo, la misericordia, la comunità, la capacità di celebrare consenso oggi, il servizio in tanti luoghi del mondo. Per quello dobbiamo aprire lo sguardo, e scoprire che la chiesa è così grande che anche il conflitto è parte salvabile di quella. Grazie Padre José Maria. Veniamo ai fatti di oggi, al videomessaggio inviato da Francesco, ai giovani che inizio agosto saranno con lui a Lisbona per la giornata mondiale della gioventù. Grazie per la giornata mondiale della gioventù. Faltano tre mesi, immagino, le cose che tendranno in la cabeça. Come lo vanno a fare, 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 come lo vanno a fare per lo che le falta per il passaggio. Tantissime preoccupazioni, però sempre mirando a ese horizonte, a esa ilusione. È una ilusione. Participare della giornata è una cosa linda e uno quando lo siente tiene la ilusione di participar alli. Prepàrense con esa ilusione. Pongan esperanza alli. Pongan esperanza. Perché se crece molto in una giornata così. Nosotros non nos damos cuenta, però quedano le cose dentro, quedano i valori che abbiamo trovato dentro, le relazioni che abbiamo avuto con altri joveni di altri paesi, i conti, tutto queda dentro. E soprattutto, per la forza juvenile. La Iglesia tiene forza del joven. Así che, adelante. Per esempio, per prepararsi bene, conviene mirare le raizze. Traten di incontrarci con l'anciano. Molti di vostri hanno avuto. Visitano a l'avuto. E pregúntenle, in tuo tempo había giornata della juventù? No, sicuro. E a vos, che ti pare che ho fare che faccio? Hable un po' con l'avuto, perché loro li vanno a dare sabidurà. Però a vos, sempre adelante. Los espero in Lisboa. Ciao. Saluto collegato con noi Lorenzo Zardi, responsabile nazionale dei giovani di azione cattolica. Ciao Lorenzo. Ciao Gennaro, buonasera a tutti. Si cresce molto la giornata mondiale della gioventù, dice Papa Francesco. Perché? Tu ne hai fatta qualcuna, immagino. Certo. Credo che si cresca innanzitutto perché abbiamo sete di orizzonti nuovi di speranza. Abbiamo sete tutti quanti di speranza e di quella speranza che è radicata nella novità del Vangelo. È nuovo il Vangelo perché ci invita a guardare avanti e non indietro. Allora credo che una delle prime risposte possa essere proprio questa. Alla giornata mondiale della gioventù veramente sperimentiamo che il Vangelo è gioia, che il Vangelo è fresco, che il Vangelo parla alle nostre vite e che il Signore ci vuole incontrare così come siamo, giovani, con le nostre fragilità, i nostri dubbi, ma anche con la forza dei sogni, facendo memoria delle nostre radici. Il Papa sempre ce lo ricorda. Fare memoria delle nostre radici parlando con gli anziani. Credo che sia una cosa molto importante perché riscoprendo le nostre radici è riscoprendo le nostre radici che possiamo generare la nostra esperienza di fede che ha sempre a che fare con Dio, non in Sato, ma con un Dio che vogliamo riscoprire personalmente. in una relazione personale che appunto parla alla nostra vita. Tutto questo alla GMG si vive, a volte si suda anche questa speranza alla GMG perché tutti quanti insieme alla festa e si prega insieme al Santo Padre. Senti, ma bisogna prepararsi per andare alla GMG. Te lo domando perché per un verso mi verrebbe da dire di sì perché l'idea che si cresca semplicemente partecipando a un grande evento isolato forse è più che una speranza è un'illusione. Al tempo stesso però uno deve essere aperto e quindi non troppo preparato. Sono veri in questo modo. Da un lato la fede è un cammino, allora la giornata mondiale della gioventù può essere l'occasione per rinnovare la fedeltà ad un cammino, riscoprirsi i pellegrini. Dall'altra parte può essere anche l'occasione per una ripartenza. Allora anche se siamo a volte dubbiosi, se non siamo sempre convinti della nostra esperienza di fede e del nostro rapporto con il Signore, questo può essere davvero l'occasione anche preparati per lasciarsi incontrare da un amore che può veramente cambiarci la vita. Quindi è un cammino perché nel cammino ci si prepara, la vita è tutta un amico, fatta da tappe di esperienze come queste della GMG, ma allo stesso tempo è un'occasione per ripartire e quindi non dobbiamo sentirci preparati per poter partecipare. Solamente desiderosi di tornare a guardare orizzonti nuovi di speranza. Grazie davvero Lorenzo, allora buona giornata mondiale della gioventù, a te e tutti i giovani, grazie a padre José Maria. Noi ci diamo appuntamento a domani, come sempre, alle 17.30. Buona serata.